Un'alveare di idee imprenditoriali pronte per essere finanziate, dove l'operatività viene messa al servizio di altri, condividendo risorse e spazi. Questo è The Hive, la community collaborativa su cui punta la regione Marche. C'è spazio per giovani, imprese, professionisti e creativi. Basta avere l'intuizione giusta ed ecco anche il sostegno economico per sviluppare un vero e proprio progetto. A credere nel potenziale delle idee, la Greenvale Ventures Europe, che fa parte di un gruppo internazionale di investimenti nello start-up di imprese. Riteniamo questa iniziativa molto importante perché non solo favorisce una contaminazione tra le imprese e le idee di imprenditori singoli o associati delle marche, ma viene considerata rilevante da chi, avendo una disponibilità economica molto consistente, vuole investire nelle idee, nei progetti e nell'industria marchigiana. Siamo riusciti a convincere degli investitori stranieri, in un periodo in cui gli investitori stranieri ce ne sono relativamente pochi qui in Italia, a credere in un progetto, un progetto che finanzia la crescita, con dei premi consistenti, che finanzia la crescita di nuove idee imprenditoriali o di idee imprenditoriali già esistenti ma che hanno bisogno di essere fatte crescere più velocemente. Abbiamo scelto le marche perché comunque è una regione dove ci sono tante piccole aziende e anche aziende a carattere familiare e quindi la forte cultura imprenditoriale e anche l'intraprendenza delle persone possono essere un valore aggiunto per ripartire e anche rilanciare l'economia. Se tutto è organizzato, come viene detto, è una bellissima cosa perché loro hanno usato la parola contaminare. Questo permette di aiutarsi a vicenda, soprattutto nel modo più young del termine imprenditoriale. Qui non c'è più quella rivalità o quella competizione che c'era un po' prima, l'old style, e c'è questa sana voglia di aiutarsi e di riuscire. Grazie a tutti.